Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. È scomparso a Roma, all'età di 51 anni, uno degli uomini che hanno segnato la storia della televisione. Sceneggiatore, autore di romanzi e documentarista, ha lasciato un segno indelebile nell'ambito della fiction televisiva per oltre 30 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia, che ha ricordato le numerose opere, soprattutto la sua abilità nel trasporre la commedia all'italiana nella fiction televisiva. Nato e cresciuto a Roma, è stato allievo di Furio Scarpelli e ha toccato varie forme d'arte durante la sua carriera, dedicandosi alla scrittura e al cinema, talvolta combinandoli. Tra le sue opere, vi è anche Il figlio di Brancaleone, scritto con Giacomo Scarpelli, considerato il terzo capitolo ideale dell'epopea iniziata da Mario Monicelli. Come nel suo romanzo L'ultima morte di Peppe Bortone, che narra la storia di un uomo che lavorava nell'industria cinematografica durante l'epoca d'oro del genere negli anni Ottanta. E il film «I mostri oggi» del 2009. I funerali si terranno nel cimitero a Cattolico della Piramide, situato a Roma. Inoltre, nella mattinata, si terrà un momento di ricordo presso la Casa del Cinema a Villa Borghese. Parliamo di Marco Tiberi. Tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.